La palla giocattoli E' un procedimento giudiziario che ha del folle, ovvero il direttore è stato condannato per un articolo che non è mai stato scritto da lui, ben anche fosse mandare in galera un giornalista per un reato di opinione è abberrante. Ma io non me la prendo con i magistrati che hanno applicato la legge, io me la prendo con quella casta di papponi che sono al Parlamento e al Senato che non sono mai stati in grado e non sono mai riusciti a mettere in atto una legge che potesse salvaguardare sia il diritto di cronaca e di informazione sia la tutela dei cittadini che si sentono ingiustamente diffamati hanno tutto il diritto di procedere per le vie giudiziarie. Ma non è questa la soluzione, non è l'arresto di un giornalista che si risolve il problema. La colpa non è di Sallusti, la colpa non è di chi l'ha denunciato, la colpa non è di Farina, la colpa è dei papponi che stanno in Parlamento e che ancora non sono riusciti a risolvere una questione indegna. La colpa è a Roma, è là che dobbiamo rivolgere la nostra rabbia, la nostra vergogna nei loro confronti. Adesso basta. Il diritto di opinione e il diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con l'arresto di Sallusti è stato messo pesantemente in discussione. A Sallusti ripeto la mia totale, piena solidarietà, ai papponi che sono a Roma il mio più grande disprezzo e disgusto.